Attenzione, ci troviamo sul palco dove si esibiranno Motor, band Tecno-Electro dell'Inghilterra. Ecco, vediamo Mixer, Chaos Pad. Ma attenzione, si intravede una persona che sta fumando. Si avvicini lei, non si nasconda. Avanzi, avanzi, per favore. E va bene, questa persona non si vuole far vedere. Ed ecco il signor Brainswitch pronto alla sua performance. Salve Brainswitch. Ciao a tutti! Fine, c'è uno.